Bella a tutti ragazzi, sono Alex Io perchè? Dicendo ancora perchè, perchè Perchè? Eeeh Perchè? Comunque vi stavo dicendo che questi guanti me li sono messi Perchè se non li vedete ecco E sono molto pelosi e sono molto belli Ma che? What? Oddio! Ma mi fate raccogliere i proiettili? Grazie Prego Cos'è che dovrei Lanciaglielo Ti prego lanciaglielo Che cazzo che è? Wow Epica È volato via Questa cosa era epica Wow Tutto c'è non è normale Dovrei provare a incusare le granate Non ci ho mai pensato Tutto il gioco che non cagliamo minimamente le granate Ok Ok Io direi di quasi quasi di evidenziare gli obiettivi Perchè se no ci fu il primo segno Oh non so sto valendo sgammatico Ma parche trovai un atto lì Adesso si Adesso si Vabbè non è ora Ma parche la gamba Ma parche la gamba Come venire sgammatico in una formica Oh 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 Lì 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 Esplodi esplodi Sii Sii Che pirotecnico Attenzione Che però ho finito l'energia Ho finito l'energia Ma è il master di botte Hai sposto subito proprio Eh ho usato una faccia della vita Ah ok C'è uno qua Sì C'è anche una bomba lì C'è una bomba Ok Cos'era quello? Era Cell Porca Ho visto Cell C'è uno in parte a me Non dietro Che raccoglilo Si Si faccio Il culo adesso Va bene? Si Posso farlo Se esplodono Magari mi fanno un favore Adesso Ammazza li Però ammazza li Cazzo No No Non morire Guarda che non muore Proprio Ok Ho messo la corazza Boom No 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 Adesso Ma vaffanculo Come lanciare granate In faccia A Cell Ciao Anche con tutta quella Meccanica Ma se è tu una Ah posso muovermi Che funziona Dio sa solo come Credimi Ti credo Ti credo Saicò E io non riesco a capire Come posso essere vivo Eh perché Uh cos'è questo Cos'è Ah una radio Guarda In alto ci sono delle grate No Le grate le lascia Oddio Oh Fa anche flash È munita di flash Non penso che sia Munita di flash Amico Oh te muove Ma che cazzo è andato Fica ha fatto uno scatto Vabbè Era lì fermo Dopo Mi fa lo scatto Lui Con questi guanti Giocare è un po' Un'impresa Perché mi scivolano i comandi Cioè pensate se io muoio A 80 Oddio Lì c'è qualcosa da violare Uè 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 Così Infoscar Cos'è Oddio Oddio Ah siamo alla culla Ok Adesso Ricordo Il stesso Il conometro Vi ha Spam Ma che continua a far così È bella l'acqua Psyco Se vuoi mi fermo anche a guardarla Non so Se vuoi Vai avanti Eh si ferma lui È scemo Un lettino Nell'ospedale Per tutto Apri Eh Un po' di gentilezza eh Tu gli spari Cosa vuoi essere gentile Apri No È un po' caricato Prima è caricato E dopo usi Eh si È perché lui non poteva farlo No Non poteva schiacciare un bottone Mi deve dire apri Con questa sua voce da Da sexy Prendi il tablet Oh Un po' Di nano tutta sanguinante Allora è un tablet No È un passoio Un po' serio Un po' serio Gesù Siediti Oh cazzo No Io non mi fido di Psyco No 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 Avete capito male No 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 Se ti piace Una sega circolare No No Diventerò un dio Oh 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 Si Si Oddio Cosa filtri Vibra tutto Oddio Oddio Cazzo Oh Madonna Come Come non è necessario Diventare come loro Ti sembra normale Cazzo 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 cos'è? cosa? perchè no? bastarde è stata lei è stata lei ottimali ah beh è psycho questo sono ottimali tu sei stata tu bastarda Michael ti prego ascoltami tu sei la ragione per cui io voglio dire combatto la cell per te perchè ti importava o facevi finta che ti importasse per questo per il tuo schifoso senso di colpa non avevo scelta Michael il programma Sally David io lo sai come funziona mi hanno costretti a farlo mi hanno costretti a farlo mi hanno costretti a farlo per tutte le persone dovevo sentiremelo urla ogni giorno ogni momento sempre lo so cosa faccio bene mio dio credimi lo so e dover conviverci per tutta la vita per tutti i giorni della mia vita ah Michael e sentirti in colpa sistema tutto vero? se ti spiace così tanto Claire perchè ho dovuto saperlo così perchè non me l'hai detto? lo sai come funziona lo sai come funziona e sai che non aveva scelta ha fatto quello che doveva fare ok comincio a capirmelo quello che doveva fare quello che doveva fare non ti ricorda qualcuno profet ti dico una cosa ancora lei aveva ragione su di te anche tu sei una fattuta macchina di perna perchè di sicuro non sei più un essere umano ah si guarda che ti sparo non sei mai stato un grande a questo punto di vista ma Cristo Santo guarda ti adesso e chi è la faccia che la scopi sotto quel caso eh profet alcatraz abbiamo sacrifici si chiama così il personaggio di CrazyStorm vabbè si e beh profet in questo momento è Alcatraz ti ho detto tutto quello che dovevi sapere ricordi cos'è? ah no una granata ma le mie chiavi ci sono due piastrine c'è la macchina sono le piastrine 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 non guardi c'è l'inizio e le chiavi della Porsche che è pacchettata minchia prendi la tua tutta non vai a combattere le tue eh bravo e mi do anche un calcio in cure vediamo come sempre basta e continuo a fare così che bisogna essere una granata dai 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 aspetta grazie delle chiavi ma non posso accettarla ragione perché vogliamo una Ferrari lascia e finisce così il capitolo? si finisce così punto di svolta si effettivamente finalmente abbiamo finito il tre che bello oddio aspetta aspetta bene bene è stella rossa Dio cos'è? 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 cosa? vogliono distruggere la città sii ma non è normale tutto ciò bravo buttami giù eccomi e anche il tuo cuore sparirà ma faremo sparire la terra nel prossimo episodio quindi se il video mi piace lasciate un commento mettete mi piace iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video bella ragazza è sul passo un cavallo eccolo la fregna di mamma la 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 ma che cazzo ma io ma io davvero bella